ed eccoci qua bentrovati ciao a tutti come andiamo benvenuti o bentornati su questo canale io sono playonat e oggi siamo su un nuovo video un nuovo episodio della serie di final fantasy 10 hd remastered per playstation 4 allora nello scorso episodio sin è arrivato puntuale come la morte letteralmente e ha distrutto tutto il battaglione ha decimato il battaglione dell'operazione mien ha sbaragliato la milizia gli albede si sono sacrificati hanno provato a fare la loro parte usando dei messi macchinari ma niente sin ha eliminato quasi tutti noi invece ci siamo salvati e adesso riprendiamo da questo punto il nostro viaggio viaggio sei ok? grazie 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 Abbiamo fatto un sacco con l'operazione processi. Ma la forma che si è tornato, devono avere un risultato migliore. Credo che i Summoni sono la nostra speranza. Per me hanno raggiunto questo, quindi hanno un modo per la Settola per fare. L'Otto è la nostra speranza. L'Otto è la nostra speranza. Anche questa è una risorsa ... Ma non è capito. A Fatima è una rispettata. Perchè verrà l'ultima? Perchè verrà un'altra cosa. Perchè verrà un'altra cosa. Perchè verrà un'altra cosa. Non è vero che non è vero, ma non è vero. Alla prossima! Grazie a tutti. 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 . a tutti. e tutti. E' difficile da fare, Yuna. Ehm, io sarei bene con tu qui. Hey, un nuovo ragazzo. Me? Chi è altro? Che cosa posso fare per te, boss? Non ti racconti Yuna che tu conosci la sin e la Jette. Eh? C'è chi? C'è chi? C'è chi? C'è chi? Non ci vogliamo di così. Lo vedo. Lo penso. Ma anche se io ci dice qualcosa, nessuno mi crede, sai? C'è chi? Ah, hai punto. Come a pensare, mi devo sapere di Jette? C'è chi con i miei sensi? Più di te che trovare a un momento critical, che diventano emozionale. C'è chi? Mi? Emozionale? Ha, ho sento che sei stato un po' il ragazzo. Sì, magari quando ero un ragazzo. Ha, magari anche un po' ora. Un po' ora. Hey! Non c'è chi? Non c'è chi? Non c'è chi? Non c'è chi? No c'è chi? No c'è chi? Ma anche se, capitano. Ma sono rispiti. Grazie a tutti, Yavin. Sì. Sì. Sì, siamo escapati con i nostri alte, ma i nostri trotti hanno fuori. E di tutti i nostri chocobo, solo questo si è che viene. Non abbiamo abbastanza di pezzi, ma senza le chocobo. Abbiamo tagliato i nostri amici e l'essereo fuori. Questo, è il nostro vale. Revalore So many died in vain So many died in vain Just you know Just you know We should never Is that the Jose temple I'm sorry Awesome The lightning mushroom rock È solo aperto quando un summoner tratta la fede. Significa che un summoner è già in là. Un summoner? Cosa se è Donna? Dobbiamo riuscire. Certo! In siamo! Un riuscito a fare attraversare. Cosa si può fare? Cosa è una dottia? L'unica è la dottia che sono stata fatta per fare a casa. Un minuto. È stato spaz, però come? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.